Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la pace sia con voi e con il tuo Spirito. Nel salutare voi, cari pellegrini brasiliani, il mio pensiero va alla vostra amata nazione. In questi giorni in cui ci prepariamo alla festa di Pentecoste, chiedo al Signore che fonda abbondantemente i doni del suo Spirito, affinché il Paese, in questi momenti di difficoltà, proceda sui sentieri dell'armonia e della pace, con l'aiuto della preghiera e del dialogo. Rivolgendo un particolare benvenuto...